Di nome fa Davide di cognome Nicola e domani allo stadio San Nicola con il suo Bari sfiderà la capolista Carpi proprio nel giorno del santo patrono di Bari, Nicola. Quasi uno scioglilingua che il calendario prima e il destino poi ha voluto riservare per il 6 dicembre. Una data simbolo per un'intera città che sta accendendo ancora di più la passione dei tifosi che nel giorno della grande festa sognano la ciliegina, lo sgambetto alla prima della classe per far diventare epico e memorabile anche il pomeriggio profano dopo la mattina sacra dedicata alle celebrazioni del Vescovo di Mira. E proprio a loro, ai tifosi biancorossi che da sempre seguono la squadra con passione e calore in lungo e largo per lo stivale, Mister Nicola ha dedicato un video un po' storia, un po' emozioni, un po' ricordi, un po' speranze. Un corto di quattro minuti e mezzo che sta già spopolando sul web, realizzato in collaborazione con Punto TV, che ha aperto i suoi archivi con le immagini più belle e significative, mettendole a disposizione del mister. La TV, tra le più giovani del territorio, per raccontare la storia ultracentenaria di una società da oltre un secolo, croce e delizia di intere generazioni di baresi. Giovane Punto TV, nata solo a gennaio scorso, Giovane il mister che di anni ne ha appena 41, apparentemente pochi per un allenatore di serie B, ma abbastanza per colpire con cultura e saggezza quanti lo hanno ascoltato in occasione della conferenza stampa di presentazione, trasmesse in diretta dalla nostra emittente. L'uomo, che ama lavorare più sulla testa che sulle gambe dei giocatori, ha scelto noi per farsi conoscere meglio. Noi, giovani come lui, ne siamo onorati e orgogliosi. Largo ai giovani, dunque, è che il campo renda merito a un uomo che è già entrato nel cuore di tutti. San Nicola, con Nicola in panchina, allo Stadio San Nicola, speriamo faccia il resto.